buongiorno a tutti benvenuti siamo in diretta con la trading room 10.03 mercoledì 7 giugno ieri ci siamo sentiti su class smbc dalle 12 e 40 dalle 12 fino circa alle 12 e 40 e abbiamo fatto un po la panoramica del mercato rispondendo a domande degli ascoltatori un po meno del solito perché è andato in onda in formato ridotto ieri analisi tecnica ma abbiamo detto cose che possiamo ripetere anche questa mattina nel senso che tutto nulla cambia all'interno del panorama del fuzzimib come vedete da questa evidenziazione che ho fatto rimaniamo all'interno di un laterale trading range quindi siamo equidistanti praticamente tra supporti e resistenze classica situazione dove quindi stare abbastanza abbottonate abbastanza fermi dove lavorando sull'indice occorre eventualmente ragionare prendere posizione quando si è su resistenza su supporti quando si è proprio nel bel mezzo di una congestione la cosa migliore da fare sarebbe andare al mare ammesso che il tempo lo consenta visto che sembra novembre più che giugno per cui l'operatività ridotta in ambito multi dei già avevamo parlato invece del fatto di come sia in atto una rotazione rispetto dall'europa verso gli indici americani e lo abbiamo visto anche nelle ultime sedute questa mattina il dax perde lo 0 34 l'italia perde parecchio meno 0 75 dopo che era partita abbastanza bene con un buon recupero ieri però vedete che assolutamente trading range quattro sedute dove siamo praticamente con il body delle candele tutto dentro al body della candela che era si era formata il 2 di giugno un giugno che parte sotto purtroppo la bandiera della lateralità mercato noioso e temo che potrà essere noioso così anche nelle prossime sedute e stendiamo il box vedete che c'è poco c'è poco da dire sull'italia molto più interessante il nasdaq e che praticamente è quasi arrivato sui livelli target che avevo indicato dei 15 mila punti ci siamo ormai abbastanza vicini aveva fatto un massimo ai 14 6 e 94 che è vicino a quella resistenza intermedia di cui ho parlato nel report dei 14 7 50 quindi 14 7 50 resistenza intermedia che precede i 15 mila punti e poi abbiamo quest'ulteriore massimo tosto impegnativo sui 15 mila 237 punti però sicuramente più pimpante il nasdaq mercato da privilegiare poi i clienti lo sanno bene siamo long degli atf nasdaq già da già da un pezzo e long su diversi titoli azionari del nasdaq tra cui quello che sta andando meglio meta e guadagno di oltre l'11 per cento dalla dall'acquisto a livello di singoli titoli quindi se guardiamo l'italia c'è veramente calma piatta poche sono le segnalazioni dei titoli interessanti questa mattina a livello di flussi si sono girati in negativo i più venduti mps b per e bami più comprato ricordati nella prima ora ricordati telecom italia di asorine seguito da stm saras a livello domani mattina faremo una puntata dedicata al trading sui future quindi faremo un po di didattica e parleremo anche di trading automatico che non ne parliamo da un po di trading automatico con alcune novità o quantomeno cose che magari molti non conoscono che mi vengono spesso chieste sugli automatismi sui linguaggi di programmazione su quale piattaforma utilizzare eccetera 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 se avete qualche titolo che volete analizzare visto che le cose da dire poi non sono tantissime quest'oggi considerando come ci dicevo ci dicevamo che siamo in un laterale abbastanza abbastanza evidente lascio a voi la parola e la possibilità appunto di interagire e di fare le vostre domande anche a livello di didattica ci sono delle cose che volete chiedere a disposizione a disposizione di tutte le vostre curiosità vediamo un po allora in new lat mi chiedono new lat andiamo subito a vedere il titolo new lat eccoci qua new lat food guardiamo prima su un time frame sul time frame giornaliero comprimendo il grafico in modo da poterlo vedere su una distanza che parta almeno da da un paio di anni addietro e vediamo come il trend che era ribassista si sia girato a rialzista quindi un trend che nel medio periodo in questo momento è un trend caratterizzato da massimi e minimi crescenti, dove c'è stato il superamento della media mobile a 200 periodi che vedete qua in blu, già questo è avvenuto esattamente il 23 di marzo, poi New Latta Food ha fatto un pullback e poi è ripartito, ha rotto il 5 di giugno la resistenza data dal massimo relativo precedente, che era questo 5,77, poi ieri ha fatto un pullback, ha ritracciato, ha perso l'1,19, pullback che ci sta dopo la rottura di questa resistenza, resistenza che praticamente a cavallo anche con questi massimi che sono i massimi dell'agosto del 2022 e quindi i segnali sono segnali di forza, quelli che sono arrivati, è importante che il titolo non si rimangi, non torni sotto la resistenza dei 5,75, riesca magari a consolidare sopra i 5,75 per dare poi l'assalto alla resistenza successiva, che è questa dei 6,24, quindi impostazione per il momento positiva, principali supporti da guardare, il primo di brevissimo 5,75 e poi abbiamo il 5,39 che è questo in rosso, poi più in basso abbiamo il valore della media mobile a 200 periodi che passa sui 4,96 euro, poi altri titoli mi pareva che ci fossero, ah sì, Tesla e Intel, su Tesla siamo long, esattamente da, vado a vedere perché non lo ricordo, dunque nella rubrica pagamento del report daily, Tesla l'abbiamo inserita in portafoglio esattamente a 180, scusatemi che sto guardando il portafoglio, Tesla in portafoglio 182,07, sì, abbiamo già chiuso metà posizione a target, andiamo a vederla tra i titoli USA, vediamo il grafico, prendiamoci per Tesla, eccole qua, questo è il grafico, titoli americani già ne abbiamo parlato, i titoli che hanno svoltato a rialzo, la maggior parte dei titoli del Nasdaq soprattutto, su Tesla, titolo che abbiamo inserito in portafoglio, il superamento dei primi livelli di resistenza appunto sui 182 dollari, quindi questo alla rottura praticamente, alla richiusura di questo gap, vedete qua aveva chiuso questo gap e poco oltre 182 siamo andati long, dopo il titolo è riuscito a rompere le resistenze successive, ha rotto i 208, ha rotto prima la media mobile 200 periodi il 30 di maggio, continua la sua salita, è riuscito a portarsi anche sopra questo massimo relativo precedente che è quello del 16 febbraio a 217, questo massimo, virgola 65 e quindi ora ha da fanti a sé, la prossima resistenza questa sui 237,40 e il primo livello di supporto è questo che prima è stato resistenza sui 207,88. Titolo che sembrerebbe avere buone chance di poter salire appunto verso il primo livello di resistenza, se lo guardiamo anche sul weekly vedete come la rottura di questo massimo, che qui quello del 13 febbraio del 2023 abbia dato un segnale bullish che potrebbe portarci sui 2,35 come primo livello e poi oltre i 2,35 abbiamo veramente tanto spazio di risalita verso quota 300. Qui ancora non è stata rotta, a dire il vero, il canale di massimi e minimi decrescenti, perché se andiamo a tracciare una trend line ribassista da qua vedete come ci possa essere ancora parecchio spazio, praticamente questo è il livello decisivo per il medio e lungo termine, per il breve però già questo segnale di rottura del massimo relativo precedente è incoraggiante e potrebbe appunto portarci come prossimo livello sui 2,35 e poi più in alto si potrebbe arrivare fino a contatto con questa trend line che attualmente transita sui 2,85, ma andando avanti chiaramente il livello si abbasserà nel tempo. Poi l'altro titolo Intel, se non ricordo male, è stato chiesto di dare un'occhiata a livelli di resistenza e di supporto, andiamo a vedere Intel, Intel meno interessante in questo momento rispetto a altri titoli tecnologici, vedete come il titolo sia sostanzialmente, è vero che si è portato sopra la media mobile 200 ma rimane sotto resistenza, 32,29 dollari per il primo livello di resistenza, c'è un secondo livello di resistenza sui 33,80, il trend ribassista che è partito nell'aprile del 2021 ha lasciato spazio a una fase laterale, però solo la rottura di questo massimo qui ci darebbe un segnale di inversione rialzista di medio periodo con l'instaurarsi di una probabile sequenza di massimi e minimi crescenti, ma finché non rompe i 33,84 il movimento dovrebbe proseguire in laterale. Poi torniamo sull'Italia, perché mi pare che ci siano altre domande che ho visto sull'Italia, WeBuild intesa e Mediolanum, quindi torniamo sul mercato italiano a vedere WeBuild, WeBuild che ha dato purtroppo segnali di inversione di trend, qui vedete che ha formato vicinissimo lì per comprato un key reversal ribassista, eravamo 69, qualcosa, quindi vicini 69,33 il valore dell'RSI. Poi qua ha fatto un nuovo key reversal ribassista, qua un altro key reversal ribassista, titolo che ha svoltato, purtroppo ha interrotto il trend rialzista con una correzione abbastanza importante, qua possiamo andare ad evidenziare questa trend line che passa sotto questi minimi, lo vado a colorare in blu e questo in blu, questa trend line credo che sia l'elemento decisivo per poter salvare WeBuild, finché sta sopra a questo livello, quindi questo supporto 1,802 transita vicinissimo a questa trend line, ci sono speranze che il titolo senta il livello e quindi possa recuperare verso quota 2 euro, quindi è possibile che questa sequenza di minimi decrescenti già qua vicino alla trend line vada a spezzarsi, però un po' di prudenza ci vuole, è chiaro che chi è long o chi ha intenzione di andare long sotto il supporto 1,802 dovrebbe valutare eventualmente una chiusura delle posizioni perché il cedimento della trend line sarebbe pericoloso e ci potrebbe proiettare più giù, quindi la speranza è che appunto questo livello 1,802 venga sentito, già ora sembrerebbe che sia stato avvertito e che ci possa proiettare verso i 2 euro andando poi a rompere il primo livello di resistenza che è 2,076. Su intesa e banca Mediolanum, io già sui bancari mi sono espresso ieri in generale, i bancari io li vedo laterali ancora per un po' e quindi ci sia ben poco da fare, da dire, se non eventualmente, se l'unica operatività che si può fare è se uno vuole concentrarsi sui bancari e comprarli sui supporti, ma in un'ottica speculativa di breve, comprarli sui supporti e venderli sulle prime resistenze, perché appunto l'aspettativa mia è che siamo in laterale e che di laterale si continuerà a parlare forse per tutta l'estate, non lo so, vedremo, ma non mi aspetto grandi cose dai bancari, sinceramente, a breve. Intesa, sentito il supporto, questo che vedete in blu, sui 2,13, rimbalzata un po', però siamo lontani dalle resistenze, 2,45, c'è una resistenza intermedia sui 2,35, quindi titolo, come detto, che credo sia eventualmente da lavorare in acquisto sui supporti e in vendita, con la compresa apertura di eventuali posizioni short sulle resistenze. Banca Mediolanum più o meno uguale, bancari che non sono certamente in forza relativa, banca Mediolanum, lo vedete, è scesa parecchio, aveva fatto questo key reversal e realtista qui, ma poi è iniziato poco dopo a tornare giù, si è messa laterale pure, poco sopra la media mobile a 200, che più o meno la sta accompagnando in questo laterale delle ultime due o tre settimane, prima resistenza 8,246, eventuali rotture dell'8,246, temo che possano essere più falsi segnali che altro, 8,40, livello già più importante che se dovesse cedere potrebbe portarci alla chiusura del gap, però in generale non mi aspetto la ripartenza di un forte trend a breve dei titoli bancari e Mediolanum non fa eccezione, quindi anche qua titoli che sono eventualmente da lavorare in acquisto, secondo me su supporti e sulle resistenze, pensare più a venderli che non ad incrementare o a andare long con strategie di acquisto sulla forza. Non è il momento dei trend follower questo, non è il momento delle strategie trend follower, non c'è trend, quindi strategie trend follower, più strategie basate su oscillatori in questo momento possono funzionare, ma mesi estivi caratterizzati dell'altra realtà non sono l'ideale per questo tipo di logiche di acquisto sulla forza. Dunque abbiamo fatto anche i bancari, adesso vado a vedere che cosa si dice su YouTube, sì ci sono delle domande anche su YouTube. Dunque Carlo chiede, sarei curioso di capire del sistema 30 minuti del Fuzzimib che utilizzo, che fa una sola operazione per un giorno, se utilizza pattern o indicatori. Dunque di future parleremo operatività in derivati soprattutto domani, come dicevo, però posso anche già rispondere a questa domanda. Dunque l'operatività su derivati si riferisce per chi magari non ha seguito puntate precedenti, credo l'ascoltatore, a questo sistemino che avevo iniziato per un mesetto circa, che ho dato alcune operazioni nella chat a Telegram, alcune operazioni così didattiche. È una strategia che è basata su dei pattern, principalmente pattern. Vi sto preparando, il tempo è stato poco, vi sto preparando un articolo didattico che parla di operatività con gli indicatori, gli indicatori trend follower, che stiamo trattando nel corso di analisi tecnica. Oggi tra l'altro ci sarà la quinta puntata alle ore 18 dedicata alla pista ciclica. Perché faccio questa premessa? Perché stiamo mostrando nel corso di analisi tecnica come ci sia tanto di buono negli indicatori, ma il difetto degli indicatori, e lo vedremo anche oggi con la pista ciclica, è che nelle fasi laterali vanno incontro a numerosi falsi segnali, se utilizzati in modalità stop and reverse, se non filtrati con conferme che ci vengono magari da altri indicatori, eccetera, eccetera. E più scendiamo di time frame, più gli indicatori generano falsi segnali, tipo il MAC, il momentum, eccetera, eccetera, se utilizzati in maniera meccanica senza essere adeguatamente filtrati. Per cui quando si lavora su time frame intraday, tipo il 30 minuti o anche time frame inferiori, utilizzare degli indicatori, più stringiamo il time frame, più falsi segnali avete, più strisce perdenti, più sono lunghe le strisce perdenti, maggiore è il disagio psicologico che avete nel fare trading con quelle logiche, maggiore è il rischio che le abbandoniate prima di rivedere degli utili, e che quindi li abbandoniate in perdita. Io preferisco nell'operatività intraday utilizzare dei pattern, tipo il key reversal, cioè giusto per intenderci che cos'è un pattern, key reversal che vediamo spesso nell'operatività multiday e che funzionano anche nell'operatività intraday. Questo esempio che vediamo qua prima di questa salita intraday è un key reversal a realzista. Questo che troviamo proprio su questo minimo, questo bottom di mercato è, prima della ripartenza del Fuzzimib, è un key reversal a realzista. Ecco, io preferisco utilizzare key reversal pattern in generale, abbinati a dei filtri orari e gli indicatori usati eventualmente come filtro, come filtro operativo. È sempre un mix quello che compone una strategia. Di solito le strategie intraday hanno bisogno di comporsi di almeno due o tre elementi. Il motore della strategia pattern di prezzo, filtri operativi basati su orari e indicatori oscillatori. Questo per cercare di ridurre il numero di falsi segnali, lavorare solo nelle momenti di mercato in cui è più utile e evitare di lavorare nelle fasi in cui ci sono pochi volumi, poca volatilità, quindi ridurre appunto le spese anche in commissioni. Vi dimostrerò per l'ennesima volta con un articolo come utilizzare certe tecniche intraday con decine e decine di eseguiti faccia solo la felicità dei broker. Quindi abbiamo risposto anche a questa domanda, ma domani ci torneremo sopra. Poi spero di riuscire a postare anche l'articolo appena avrò un attimo di tempo. Allora, mi chiedono spesso, mi sono arrivata anche dell'email a un paio, ho risposto ieri l'algoritmo Key Reversal per VT6, allora dovrebbe essere stato inserito di default nell'ultima versione di Visual Trader, quindi aggiornate il Visual Trader. Se non doveste vederli, nella sezione dovete andare qua, end of day, e poi VT Explorer, sotto VT Explorer, se non li trovate, allora mandatemi un'email, scrivete anche alice.anniboli.chiocciolatradalink.it eventualmente, e vi gireremo gli Explorer da installare sulla piattaforma. Torno alle altre domande che c'erano su YouTube, poi per chiudere la conferenza odierna cerco di rispondere velocemente anche a altre domande. il parere su Keyon e Shopify. Allora, andiamo a vedere questi due titoli. Keyon non mi ha scritto dove andarlo a prendere, perché si può prendere su diversi panieri, si può prendere sulla Germania, si può prendere sulla Svizzera e su altri mercati ancora. Direi che possiamo andarlo a prendere sulla Germania, Keyon Group. Qui cambio un attimo piattaforma, perché è più veloce è più veloce trovare direttamente il codice. Allora, eccola qua, Keyon. Vedete che è all'ennesimo titolo che si sta muovendo in laterale, e quindi tra questo livello di supporto dei 32,58, primo livello di resistenza, questo sui 36,15, vedete che ci sono questi due massimi praticamente allineati, c'è questo ulteriore massimo come resistenza sui 38,47, titolo poco interessante, l'ennesimo titolo che si sta muovendo in laterale, e quando si è in mezzo a una congestione, come ho già detto tante volte, è meglio non fare nulla. Quando è che è meglio lavorare? Meglio lavorare quando ci sono queste situazioni qua. Qua, per l'ennesima volta, cosa c'è qui? Cosa vedete? Un key reversal rialzista. Quindi, congestione, lavorare su supporti, se ci sono dei pattern, se ci sono dei supporti molto ben chiari, qua non c'era un supporto ben evidente, il supporto era più in basso, però si è formato questo key reversal rialzista, quindi da qua era possibile entrare in acquisto. Qui vedete cosa c'è all'opposto, key reversal ribassista, quasi sui massimi, e questi sono i pattern da cercare. Se in assenza di pattern, qua non c'è nulla, siamo in mezzo alla congestione tra supporti e resistenze e quindi, come si dice in gergo, si rimane neutral, si rimane neutrali. L'altro titolo che è stato chiesto oltre a Kion è Shopify, intanto che siamo su TradingView, lo prendiamo qui, magari lo scrivo corretto e più facile di trovarlo. Eccolo qua, Shopify. Shopify è il titolo decisamente più interessante, invece, vediamo come il titolo si sia portato a ridosso del massimo relativo precedente, quindi di questa resistenza qui sui 65 dollari. Titolo che è in trend rialzista di breve, vediamo come ci sia una sequenza di massimi e minimi crescenti in atto, in corso. Direi che vedete che qua aveva fatto prima di questa correzione un key reversal ribassista, ora se lo sta per andare a rimangiare bisogna guardare la rottura di questo massimo come potenziale segnale bullish che potrebbe portarci poi verso le resistenze successive in area 70 dollari. Quindi il titolo è già decisamente più interessante in questo momento rispetto all'altro che abbiamo visto prima. Poi altre domande, Garden Telt e Sofi Technologies, io purtroppo sono in chiusura, quindi cerco di guardarne almeno uno Guardant Health lo andiamo a prendere e poi per tutto il resto ci daremo appuntamento domani mattina dove parleremo soprattutto di operatività intraday e qua cosa vedete? Titolo che si sta muovendo in laterale, titolo che ha quest'area di resistenza qui vedete su questo massimo e la rottura di questa resistenza che è coincisa a guarda caso con un key reversal ribassista dovrebbe darci sui 33,66 un input bullish verso la chiusura di questo gap verso i 40 dollari meglio non anticipare mai la rottura di una resistenza e quindi attendere questa potenziale rottura che darebbe un segnale di forza appunto con target che si alzerebbe verso i 40 dollari mi scuso se non riesco a rispondere ad altre domande ma purtroppo ho mezz'ora a disposizione e ho una call istituzionale proprio in questi minuti e quindi ci diamo appuntamento domani mattina domani mattina per la trading room ore 9 9 del mattino se non ricordo male anticipata rispetto al solito quindi l'ho scritto nella chat mi pare di aver scritto alle 9 o se non addirittura alle 8 e 30 anzi chiedo scusa rettifico 8 e 30 domani mattina 8 e 30 parleremo soprattutto di future e poi cerco di rispondere alle domande che sono rimaste in sospeso sui titoli che non ho analizzato oggi quindi vi invito a mandarmi magari via email infochiocciolaricomalberti.com così mi faccio una nota e me li preparo per vederli velocemente domani mattina ultima cosa vi ricordo nuovamente il corso di analisi tecnica oggi gratuito alle ore 18 in cui parleremo della pista ciclica appuntamento a domani buon trading a tutti grazie a tutti